L'Electric Shop needs some light bulbs. Send us up a case, will you? Well, ti ho trovato il pezzo che ti serve per la tua Rolls Royce, ok? Sì, ma non è una Rolls Royce, è una barca, te lo dico. Ah, dite tutto così. E poi apre la barca e dendercela a Rolls Royce con le borche di pitone. Beh, invece io c'ho solo la barca. Adesso dimmi quanto vuoi che me lo porto via. Ah, beh, dunque... Tu non ti porti via niente. Dove ti trovavi alle 4 e 5 pomeridiane di mercoledì 23 ottobre 1973? Era giovedì. E com'è che te lo ricordi così bene? Era il compleanno del mio gatto.